Il progetto del nuovo ospedale di Andria non sarà rifatto, ma è ancora lunga la strada. La conferenza di servizi della Regione Puglia ha accolto le 763 prescrizioni contenute nei 24 pareri che modificheranno la struttura sanitaria da realizzarsi. Il Comitato per il nascituro non socomio della sesta provincia, che ad oggi rappresenta diversi soggetti, ha seguito tutta la vicenda attenzionando gli incontri della Commissione Sanità e promosso incontri con il Presidente Michele Emiliano e con l'assessore Rocco Palese, nonché con il Direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro. Punto di svolta dell'intera questione la determinazione dirigenziale numero 158 del 10 agosto 2023 proprio di Montanaro, in cui sono state recepite anche le osservazioni riguardo al progetto da parte di Asset. A queste ultime ci si dovrà adeguare nella realizzazione della struttura, che non avrà quindi un progetto ex novo, ma uno rivisitato. La Regione Puglia, quindi approvando le risultanze della conferenza dei servizi, ha chiarito che ora l'ASL dovrà procedere al progetto definitivo con la ricezione delle prescrizioni. Una volta definita questa fase, toccherà all'istituzione regionale, al Comune di Andria, procedere a sottoscrivere l'accordo di programma, che permetterà al Consiglio Comunale, nei 30 giorni successivi, di approvare la variante urbanistica propedeutica alla realizzazione del nuovo ospedale. Sulla vicenda era intervenuto ieri anche il Presidente del Consiglio Comunale di Andria, Giovanni Burchio. Come rappresentante istituzionale della mia città, ha scritto lo stesso in una nota indirizzata all'Assessore alla Sanità regionale Roccoparese, sono continuamente sottoposte a richieste da parte dei consiglieri comunali e dai capigruppo consigliari che li rappresentano. Considerata l'entità del progetto e l'attesa da parte della città di Andria di un'opera così importante, sono a richiederle, aggiunge Burchio, aggiornamenti sullo stato dell'arte del progetto e sulle eventuali modifiche apportate a quello originario. Qualora fosse disponibile, le invito a partecipare ad una conferenza dei capigruppo che provvederò a convocare in base alle sue esigenze, fiducioso, attendo riscontro.